10 5 4 3 2 1 vai 150 rail destra 3 più 30 tira destro per sinistra 4 lunga per attenzione Vivio destra 4 lunga stretta 30 sinistra 5 meno per attenzione tornante destro 50 sinistri sinistra 5 30 attenzione tornante sinistro alla chiesina eccolo vai 30 destra 3 stretta 30 cancello dai sinistro sinistra 3 sporca indosso 50 destra 3 per allo specchio sinistra 2 sporca per destra 3 più destra 3 più sporca indosso cieco per destra 5 50 destra 4 50 addosso dritto 50 al bianco sinistra 3 meno chiude per destra 5 per sinistra 4 indosso e subito destra 3 meno lunga per sinistra 3 per molta attenzione destra 2 apre 30 sinistra 3 lunga lunga più apre 50 attenzione vivio destra 3 80 alla chiesina sinistra 3 più 50 destra 5 lunga 50 destra 5 200 a vista mossi attenzione stacca sci pressi per destra 3 più sporca sporca 50 50 sinistra 4 lunga per destra 4 lunga lunga doppia 30 alla rotoballa attenzione destra 3 meno alla zedra sinistra 3 apre sinistra 3 apre 80 al piolo sinistra 4 meno 100 attenzione strettoia stai destro per destra 4 30 destra 3 meno lunga 3 meno lunga 30 sinistra 4 meno indosso subito al muro destra 3 lunga lunga più doppia 50 molto sconnesso attenzione destra 3 meno meno subito sinistra 2 gira per sinistra 4 e subito destra 5 per destra 4 mossi 80 a vista gira destro mossi sinistra 3 più 3 più questa 50 destra 5 indosso 30 al palone sinistra 3 meno chiude 50 sconnessi salta destra 4 lunga lunga gira molto 50 destri sinistra 3 meno lunga chiude per al ponte destra 3 lunga lunga 50 all'albero stai sinistro sinistra 4 lunga lunga 150 al giallo sinistro sinistra 4 lunga lunga 200 vai tutto vai tutto vai giù 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 bravo grazie mille a Grazie a tutti.